Ciao a tutti, questo sarà un video per parlare un attimo. Non si parlerà di trucchi, non si parlerà di acquisti, non si parlerà di videotag, niente di tutto ciò. Questo è un piccolo video per riflettere, diciamo. Dunque, avete presente quando avete una migliore amica? Cioè, non so se avete usato la mia stessa situazione, ora ve la spiego. Quattro anni fa ho conosciuto una ragazza, siamo diventate molto amiche. O lei era da me, o io ero da lei, insomma tutti i giorni ci vedevamo, tutte le sere uscivamo, eravamo sempre insieme. E poi, vabbè, ho conosciuto il mio attuale ragazzo, mi sono messa insieme a lui, e questa ragazza non l'ho più, diciamo, cagata. E così ho fatto anche con un'altra mia amica, e insomma alla fine ho perso tutte le amiche. E niente, arriviamo oggi. Ora, questa mia amica deve partire per Londra. Lo sopporto tipo l'altro giorno. E abbiamo fatto tipo due anni non uscire più insieme, due o tre. Però quando capita ci sentiamo, se ci vediamo ci fermiamo, guai, io le voglio un sacco di bene. E niente, ora che deve partire per Londra, cavolo, ci sto male. Mi dispiace, lei deve andare là per cercare lavoro e tutto il resto. Io ci sto un po' male, sinceramente, per il fatto che... Dico, tutto questo tempo qui, Marika, non potevi scantarti fuori prima di andare da lei. Non potevi uscirci insieme. Adesso vuoi farlo, adesso non puoi più farlo, lei va a Londra. E questo mi fa... Sad. Mi fa triste, perché... Insomma, mi dispiace che lei parta. Cioè, sono felice per lei se va là a trovar lavoro. Però mi dispiace perderla. Cavolo, non ci siamo più guardati in faccia, diciamo, tra virgolette, in questi anni, ora che lei se ne deve andare, io ci sto male. Dovrei starci più male in questo punto, perché non l'ho più cagata. Da quando sto con me amoroso. Però, niente. Se vedi sto messaggio, volevo dirti che sono felicissima per te. Se vai a Londra, trovi lavoro e... Ti mando un grosso bacio. Mela, ti voglio troppo bene e... Non vedo l'ora di vederti, sinceramente. Sì, perché oggi dovevamo vederci, ma... Hai tantissimi impegni. Domani parti e... Niente, spero che questo video lo vedrai. Ti voglio bene e ti auguro il meglio. Ciao.